Che significato ha l'uomo e il mondo che lo circonda nei mistici? Essere e divenire, cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti, a cura di Vubi, Dali. Dunque, che significato ha l'uomo e il mondo che lo circonda nei mistici? Per voi che sapete questa realtà, come, dove volgermi a Dio, pregare Dio? Ebbene, se la sua presenza è talmente compenetrante e vasta e mai carente da infondervi un senso di sbigottimento, tanto forse da non sentirlo proprio per questa sua immensa presenza, ebbene, sappiamo che voi che conoscete queste verità, figli, voi dovete suscitare Dio entro di voi. Non dovete trovarlo nel mondo dei fotogrammi, per quanto il mondo dei fotogrammi, nella sua perfezione, non possa che testimoniarci della sua immensità, dell'immensità di Dio. E allora, come trovarlo come uomini nel mondo? E io vi dico in voi stessi. La preghiera di Francesco, la preghiera semplice, è il modo in cui voi dovete trovare Dio entro voi stessi, cioè porvi in uno stato di ricezione e al tempo stesso trasmissione, abbandonarvi, in modo che diventiate canali del suo amore per le sue creature, trovarlo in voi per darlo agli altri. Ecco come voi dovete cercare e trovare Dio. Egli è presente nel mondo dei fotogrammi perché egli stesso li compone, li sostiene, li realizza. Ma l'uomo lo trova nel mondo dei fotogrammi solo attraverso se stesso. Ed attraverso se stesso, egli può vedere i segni della sua presenza eterna e senza limiti. Quella presenza, sì figli, può sembrarvi strano, che opera i cosiddetti miracoli, che esistono. Quella presenza che può far pensare ad un intervento diretto, come lo intendono certe religioni, quasi trascendente le sue leggi. Ebbene figli, questo intervento diretto, non trascendente le sue leggi, ma realizzantesi in forza di esse, c'è. Perché voi sappiate farvi i suoi canali, i suoi strumenti, i raggi della sua luce.